Radio Radicale, oggi ci occupiamo di un libro molto particolare, il titolo è Duce e truce, insulti, barzellette, caricature, l'opposizione popolare al fascismo nei rapporti segreti dei prefetti dal 1930 al 1945. L'autore è Alberto Vacca che abbiamo qui nel nostro studio. Buonasera professore. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Ecco, vorrei dire questo per introdurre un po' il libro. Molto spesso nella storiografia sul fascismo italiano si è voluto fare una distinzione tra il carattere totalitario di regimi come quello nazista e staliniano e quello autoritario, ovvero più morbido, di Mussolini. Questo testo, che è frutto di lavoro archivistico, ci dimostra invece proprio il carattere propriamente totalitario, a mio avviso, del regime mussoliniano, cioè il suo controllo sulla società totale, fatto da una parte di propaganda e dall'altra parte di repressione. In particolare, in questo libro si occupa proprio del secondo aspetto della repressione. Io vorrei innanzitutto chiederle come è venuto in mente di scrivere questo libro e qual è stato il metodo, insomma. Ecco, ha detto bene. Il regime fascista era basato sulla propaganda capillare e sulla repressione altrettanto capillare e fu così che riuscì a dominare in Italia per un ventennio circa. E l'idea di scrivere questo libro mi è venuta avendo trovato presso l'archivio centrale dello Stato, un fondo archivistico in cui sono contenuti tutti i rapporti dei prefetti che furono inviati dal 1930 al 1943 e poi durante il periodo della Repubblica di Salò anche fino al 1945, che riguardavano il cosiddetto reatto di offesa al capo del governo, che in effetti poi nella prassi amministrativa venne rubricato come reatto di offesa al Duce. Ecco, infatti, questo reato è un reato particolare non solo perché, come dire, come lei ha ricordato, poi era di fatto l'offesa al Duce o l'offesa a Mussolini come persona, ma c'era anche la questione, c'è stata anche la questione che lo stesso Mussolini ha voluto, e lei lo spiega bene, incaricarsi di giudicare almeno i reati più gravi di questo genere, quelli che venivano considerati più gravi, per esempio meritori del confino. Poi c'erano vari tipi di pene per questo reato. Ci vuole spiegare un po' meglio? Sì, il reato di offesa al Duce fu introdotto nel 1925, poi entrò permanentemente nel sistema penale italiano con il codice penale del 1930 ed era punito fino ad un massimo di cinque anni di carcere. La competenza era demandata alla magistratura ordinaria, o nel caso dei reati più gravi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Mussolini, però, dopo che furono celebrati alcuni processi, si rese conto che la celebrazione del processo avrebbe amplificato la portata del reato in quanto avrebbe portato a conoscenza di più persone, specialmente nelle aule giudiziarie, ciò che si era detto nei suoi confronti. E allora, poi anche poteva succedere che la magistratura in qualche caso potesse essere indulgente. E allora, a partire dal 1930-31-32, decise di avvocare a sé la decisione su questo reato. Rinunciò al processo per motivi proprio di suo interesse personale. E stabilì, con una circolare che fece diramare a tutti i prefetti dal capo della polizia, che prima di denunciare alla magistratura il reato di offesa al duce, bisognava ottenere l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, che non la concedeva quasi mai. E allora ecco che era lui stesso a decidere quale pena applicare su questo reato. La pena era il confino, la munizione o la diffida nei casi meno gravi. Ecco, tra l'altro una cosa particolare, un'altra questione particolare che pone il suo libro e che veramente, non penso che è un'informazione molto nota, è che tra i confinati, cioè la percentuale di coloro che appunto furono confinati per questo reato particolare, che poi come vedremo è un reato che è stato contestato per i motivi anche più futili, e cioè il 10% dei confinati non erano appunto confinati semplicemente oppositori politici, gente che insomma organizzava una reale opposizione al regime, ma erano di questa fatta insomma, fatti specie. Si erano anche degli stessi fascisti che si erano permessi di offendere l'onore del capo del governo, l'onore del duce. Ma un caso estremo, la punizione arrivava fino al punto che punivano persino coloro che nei discorsi o nelle battute, anziché dire il duce o il capo del governo, o Mussolini, si permettevano di chiamarle col suo nome. Chiunque dicesse Benito, il fatto stesso di chiamarlo Benito col suo nome era già un'offesa al suo onore e si veniva puniti anche per questo. Ecco, e tra l'altro un altro fenomeno che risulta molto chiaro dal libro è il fenomeno della delazione. Perché lì, come dire, si vede come il regime, si è detto che il regime aveva consenso, ma il consenso può essere spiegato in vari modi. Questo però è un consenso particolare che poi in realtà può nascere da vari motivi, dalla paura oppure dal fatto di voler avere un premio, da tanti fattori. E comunque era diffusissimo, tanto che ci sono degli esempi nel libro, addirittura di un bambino di quinta elementare che denuncia quello che per esempio dice la professoressa. Ecco, queste sono cose molto particolari, no? Esatto. Dunque, è vero che durante il regime fascista, come è stato messo in luce dagli storici, ci fu il consenso. Poi basta anche guardare i filmati luce dell'epoca, si vedono queste folle oceaniche che corrono ad acclamare il duce. Ma bisogna però chiedersi quali erano le ragioni di questo consenso. Diamo per scontato che una parte di consenso era genuina, che veniva da tutti i fascisti che dal regime traevano una utilità, traevano un beneficio. Poi c'era un consenso molto più diffuso, che io chiamo consenso coatto, perché era determinato dalla paura che si aveva negli confronti dei mezzi repressivi di cui il fascismo poteva disporre, che era incentrato, tutto il sistema repressivo, su vari apparati. L'apparato più, diciamo, noto è quello dell'Ovra, l'opera volontaria, opera vigilanza, repressione antifascista. Poi c'era l'apparato della polizia, poi l'apparato dei carabinieri, poi la milizia, per cui anche nei più sperduti paesi della penisola tutti quanti erano sottoposti alla repressione di questi organi polizieschi. Ma non solo. Questi organi poi si servivano di informatori, che erano, costituivano una rete capillare, per cui si verificava anche che la delazione avveniva all'interno della stessa famiglia, un genitore che denuncia il figlio o viceversa. E il fascismo, quindi, buona parte del consenso lo creò con questo sistema repressivo basato sulla paura. Sulla paura che ognuno aveva di aprire bocca, perché anche un parente, anche un familiare, poteva denunciarlo. E quindi si sarebbe trovato subito in carcere. Certo che allora il consenso veniva, diciamo, ad essere esteso a tutta la popolazione. Ecco, infatti, per dare un esempio di un bambino che fa una delazione, no? C'è una segnalazione che prendo dal libro del prefetto di Bologna del 2 gennaio 1942, che dice questo. Nel pomeriggio dell'11 dicembre, nell'atto in cui uccideva un maiale, il sovrascritto Boldini Giuseppe, nella stessa stessa del colpo, pronunziava la seguente frase. Sarebbe meglio uccidere il duce e non questo maiale. Tale frase fu intesa dal minore Tinti Ettore di Enea, di anni 11, da Calderara di Reno, scolaro di quinta classe elementare. Il giorno successivo il Tinti, trovandosi in scuola dopo che la maestra aveva terminato di commentare il bollettino di guerra, si alzò e riferì all'insegnante quanto aveva udito, ma fu interrotto dall'insegnante stessa, forse sgomenta della frase, è obbligato a tacere l'arma dei carabinieri del luogo, venuta a conoscenza del fatto, interrogò il ragazzo, eccetera, eccetera. Poi questo si fa, come dire, i suoi, si passa i suoi guai, no? Perché è appunto stato subito assicurato nelle carceri. Un'altra cosa particolare era la questione delle barzellette, cioè le barzellette che vengono definite in uno di questi report dei prefetti come una perniciosa forma di propaganda antifascista. Cioè, incredibile anche questo. Sì, anche questo, sì. E per quanto riguarda, adesso riferendomi a quell'ultimo episodio, nelle scuole bisognava stare molto attenti. Infatti si poteva finire direttamente dall'aula scolastica, nell'aula giudiziaria, oppure si poteva finire direttamente in carcere. Un altro episodio che è riportato nel libro arriva in una scuola superiore di un paese della Sardegna, San Luri, vicino a Cagliari, un giovane supplente. Arriva a scuola e vede che c'è il crucifisso e ai lati del crucifisso due quadri, il re e il duce. Chiede agli alunni il professore supplente, ragazzi, voi sapete che Cristo fu crucifisso? Chi aveva al suo fianco? E risposero gli alunni, due ladroni. E poi dice, questi ladroni come erano? Uno buono e uno cattivo. E allora, guardando i quadri, chiese agli alunni il professore, e di questi due, il quadro del duce e il quadro del re, chi sarà il buono o il cattivo ladrone? E allora un alunno che sentì ciò, riferì al padre, e il padre riferì poi al carabinieri e al proprio professore finì al confino. Ecco, vediamo invece, ritorniamo alla questione che abbiamo appena accennato prima, delle vittime, perché la cosa che colpisce è vedere repressi per lo più marginali, poveri, persone vessate nel lavoro, che magari in un momento hanno un'imprecazione che ovviamente coinvolge il governo, come succede anche ai giorni nostri, o magari che si lasciano andare in un momento di ebrezza, in un'osteria, anzi sono moltissimi i casi di osteria. Ecco, questo è appunto un altro indice di questo veramente regime di paura, perché poi non si può che parlare di questo. Di terrore che avevano questi poveri cittadini, perché noi conosciamo dagli studi che sono stati fatti la repressione che c'è stata nei confronti dei politici e anche di quelli che poi sono dovuti scappare all'estero, ma la repressione, non so, dei comunisti, degli anarchici, di tutti gli altri, del Partito Popolare, ma qui si tratta di repressione di persone che non erano neppure iscritte al fascismo, o in qualche caso lo erano, e venivano comunque, diciamo, represse, perché dissacravano quello che era il mito dominante, dissacravano la personalità del duce, e questa per il duce era l'offesa più grande, l'offesa alla sua persona, la sua persona interpretava il, diciamo, interpretava il culmine, il massimo di tutta la nazione, nella sua persona si assommavano tutti i poteri del Partito e dello Stato, quindi la sua persona è considerata come sacra, e qualsiasi battuta o barzelletta che veniva diffusa nei suoi confronti non poteva essere tollerata, perché intaccava quel mito, erano ben consapevoli gli stessi gerarchi che si trattava di un mito, che molte in realtà erano nascoste, ma cercavano di mantenerlo in piedi, e l'arma più efficace era questa di reprimere anche nei minimi particolari e nei paesi più remoti qualsiasi parola dissonante con questo mito e con questa ideologia. Ecco, tra l'altro, appunto, questo fa vedere proprio che c'è una lotta impari, no, tra il regime e la popolazione, una lotta simmetrica tra un potere poliziesco e la normalità quotidiana fatta anche di leggerezza, gioco, e a questo proposito voglio leggere anche un piccolo brano che riguarda proprio questo modo anche di giocare, che però veniva poi, aveva delle conseguenze molto gravi, no? Per esempio c'è una nota del Perfetto di Milano dell'11 aprile del 42 che dice questo Allora, disposte a curate indagini è stata assodata la responsabilità materiale dell'inserviente del carro rosa di Francesco. Costè, interrogata, dichiarato che il 17 marzo, verso le 8, terminato il suo turno di assistenza notturna agli infermi, dalle 21 alle 7, prima di andare a dormire, consumò il pasto che aveva dovuto consumare a mezzogiorno, bevendo 400 centilitri di vino, che rappresentavano la sua reazione per i due passi giornalieri. In condizioni psichiche anormali, sia per la stanchezza della notte insonne, sia per il vino bevuto, si portò quindi nella sala ritrovo inservienti dove si ritrovavano alcune sue colleghe, tra le quali ha dichiarato ricordare Magni e Rosalia, eccetera. A un certo momento notò che il quadro con l'effigia del duce, sospeso a una parete nella sala, era girato con la faccia al muro. Toltolo dalla parete, per rimetterlo a posto, udì una voce, che le sembrò essere quella della Magni, esclamare in tono ironico, portalo nella dispensa. Al che lei disse, nella dispensa ci sono le suore che mi sgriderebbero, lo porto nel cesso. Tradusse subito in realtà la sua affermazione, mentre la Magni, la Chiodi e la Sanna provarono con grandi risate e trasportò il quadro nell'antiguo gabinetto di decenza, collocandolo sul portacarta igienica e visistente, e quindi andò a dormire. Dagli accertamenti è il risultato che poco dopo il quadro fu trasferito dal detto posto, dalla inserviente Chiodi, per postuma resipiscenza, nel piccolo atrio di accesso al gabinetto e collocato sul termosifone. Soltanto alle 13, la suora Giuseppina e Beroni, sorvegliante delle inservienti, avvertita del fatto, provvide a far rimettere al suo posto il quadro, rivolgendo severo ammonimento ad alcuni inservienti riuniti a Mensa in quel momento. Il fatto fu subito rapportato dalla suora alla madre superiore, che per evitare scandalo e per malinteso spirito di carità verso la responsabile, della quale tuttavia ignorava il nome, non ne riferiva alla direzione dell'ospedale, rimasta così all'oscuro di quanto accaduto. È lungo, lo leggo tutto, perché è una cosa incredibile quanto si parla di una cosa del genere. L'inserviente Magni, interrogata, ha confermato l'operato della Delcarro, negando però di averla estigata a nascondere il quadro nella dispensa. Ammesso di avere riso di fronte a quanto commetteva la Delcarro, che riteneva scherzasse. Uguali dichiarazioni hanno reso alle inservienti Chiodi e Sanna. Tutte hanno affermato di avere rimproverato la Delcarro, dicendola sta attenta che vai al confino, ma hanno ammesso di essere rimaste materialmente passive di fronte al gesto della Delcarro, che appariva in stato psichico anormale. La Delcarro, peraltro, ha dichiarato di non sapere spiegare nemmeno a se stessa il perché del suo riprovevole operato, in quanto asserisce di nutrire sentimenti di devozione al duce e al fascismo. È infatti iscritta alle organizzazioni del regime da oltre due anni ed ora è tesserata presso il fascio femminile. Anche la Magni, la Chiodi e la Sanna sono iscritte al Partito Nazionale Fascista. Tutte servono a regolare condotta morale e politica e in servizio si dimostrano disciplinate. Il fatto commesso dalla Delcarro ha destato sfavorevole impressione nell'ambiente dell'istituto ospedaliero e tra il personale di circa 120 inservienti. Per quanto sopra, e perché serva di esempio e monito, propongo, salvo diverso superiore avviso, che la Delcarro sia deferita alla Commissione Provinciale per l'assegnazione al confino. Al confino. E poi, appunto, continua per le altre. Nei confronti del serviente Magni, propongo sia trattenuta in carcere 30 giorni ed ammonita. Per la Chiodi e la Sanna siano trattenute in carcere 30 giorni. E poi ci ha difidato, ai sensi, l'articolo 164 nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ecco, cioè, questo è un esempio. E' anche lungo, cioè, quanto si dilungavano in questi rapporti. Però poi, come... La maggior parte, poi, tra l'altro, se non finiva il confino, comunque si faceva un periodo in carcere. Sì, perlomeno uno o due mesi, talora anche tre mesi di carcere. Anche se poi risultava che si era innocenti. Ora, qui, la mania persecutoria del fascismo, si vede proprio in questo episodio e in altri simili, ingaggiarono proprio una vera lotta contro le scritte che venivano fatte nei gabineti pubblici, dove, appunto, si sbizzarrivano gli italiani, credendo di essere al riparo, con le scritte nei confronti delle luci, con le scritte offensive. Ma venivano avviate delle indagini accuratissime, venivano tolti pezzi di intonaco che si trovavano sul muro del gabinetto e poi veniva sottoposto il sospettato a perizia calligrafica. In molti casi riuscivano comunque a scoprirli. Poi, un altro episodio che lì è riportato, immaginiamoci che, essendo stata una volta in una locanda stracciata una fotografia del Duce e buttata in un vaso da notte per disprezzo, la polizia, avviate le indagini, recuperò i pezzi di carta della fotografia del Duce e li mandò addirittura al Ministero e nel rapporto poi del prefetto accludo i pezzetti di carta recuperati dal vaso da notte. Io non ho avuto l'onore di poterli vedere, ma poi c'era una nota, dice, e i pezzetti poi sono stati rimandati indietro dopo che sono stati esaminati e c'è da presumere che li abbia visti anche il Duce personalmente perché il fatto fu talmente grave che il colpevole poi fu sanzionato con cinque anni di confino. Sì, sì, poi infatti abbiamo detto che tutti vengono sanzionati, per esempio ci sono dei, cioè sarebbe da leggere continuamente, perché c'è per esempio a pagina 267 quasi un trattato su un'immagine sempre del Duce strappata, oppure la casa, viene prescritta la casa di rieducazione per due ragazzini, per una pernacchia in un cinema, oppure si propone il confino a chi le stesse autorità di polizia ritengono non capaci di intendere volere. Cioè era proprio... e poi ci sono casi, come lei ricordava proprio all'inizio, anche di stessi fascisti, che per esempio Gianluca, il caso esemplare che lei ricorda è quello di Gianluca Besson, dei GUF fascisti, che viene condannata a dieci anni anche lì incredibilmente, se ce lo vuole ricordare. Sì, è una vicenda incredibile. Giampiero Besson era uno studente universitario, apparteneva al GUF, quindi all'organizzazione degli studenti fascisti. Un giorno, per scherzo, con i suoi amici, pronunciò alcune frasi di questo tenore, eravamo nel 1942, nel periodo della guerra, dice, beh, mentre il popolo soffre, loro intanto si fanno i fatti, loro si arricchiscono, imitando certe donnette del mercato che andavano a lamentarsi in questo modo. Fu processato e condannato, il caso più esemplare, questo non fu Mussolini a mandarlo al confino, ma vuole mandarlo direttamente al tribunale speciale perché si desse una lezione anche a tutti quei fascisti che comunque cominciavano già a costituire una fronda. E lo condannarono a dieci anni di carcere, che non scontò per fortuna perché poi, caduto il fascismo, nel 1943 fu rimesso in libertà e poi però con l'occupazione tedesca dovette darsi alla clandestinità e visse alcuni mesi qui a Roma fino a che poi non fu liberata la città e poter rientrare in Sardegna. Ma questo è un caso esemplare. Ecco, tra l'altro, ne ha citato la guerra, no? Ovviamente con la guerra e con le difficoltà che la guerra ha portato, con le tragedie, questa, diciamo, opposizione, questo malumore, potremmo dire, popolare, aumenta. E c'è proprio però l'incapacità del regime di riconoscere la realtà. Sì, e durante il periodo della guerra diciamo che ci fu anche una particolare attenzione repressiva proprio nei confronti degli iscritti del partito fascista perché venivano, qualsiasi critica veniva definita come disfatismo. Cioè il reato di disfatismo era di coloro che con i loro discorsi esortavano la popolazione alla disfatta, all'arresa. E un altro esempio, per esempio, di questo tenore, durante la guerra un passeggero sale su un tram e dice ma guarda un po' che sta a allargare i confini dell'Italia al nostro duce quando qui siamo stretti come sardine. Quindi c'era questa consapevolezza che la guerra era del tutto inutile e che tutto ciò era a danno poi della povera gente. Ecco, a proposito di questo non riconoscimento della realtà, voglio leggere un passo di una segnalazione del prefetto di Treviso del 16 luglio 34. Si rende necessaria, pertanto, l'adozione di una severa misura di polizia che valga allontanarlo, sia pure per breve tempo da questa città per porlo nell'impossibilità di nuocere ottenermente all'ordinamento nazionale che, mentre sia ritenuta idonea a dare giusta riparazione al documento continuamente infetto da lui al regime, abbia anche un valore esclusivamente politico di essere cioè di salutare esempio di energico monito a quanti si mantengono ancora neghittosi e ignavi ai margini del fervido clima fascista dell'anno dodicesimo e soprattutto a quelli che, pur avendo il privilegio di appartenere alle classi sociali più elevate, osano tuttora esplicare in qualsiasi modo, in qualsiasi luogo, ma sempre consci del gravissimo danno che arrecano, un'azione corrosiva e deleteria e danni del regime, in stridente e sconfortante contrasto con la condotta delle masse dei lavoratori fascisti, le quali, quantunque pressate dal grave disagio economico, marciano in fervorosa disciplina e assoluta obbedienza sotto il segno dell'ittorio servendo il regime. Ecco, questa parte finale di un provvedimento che viene richiesto per un signore di cui adesso non abbiamo narrato quello che ha fatto, però è significativa perché appunto si riconosce da una parte il disagio economico, però appunto il regime non si può discutere, le masse lo seguono così e chi fa notare la realtà è fuori, è out e deve essere represso. Si riconosce la gravità della situazione, si riconosce la realtà, ma non si vuole che se ne parli, non se ne deve parlare nel modo più assoluto e allora chiunque con una battuta, con una allusione intenda descrivere le cose così come stanno viene immediatamente represso. Ecco, quindi potremmo dire che c'era appunto, non lo so perché dal punto di vista storico questa tesi dell'autoritarismo del regime fascista e non del totalitarismo è una tesi abbastanza come dire affermata, cioè è inspiegabile che invece appunto non si sia lavorato come lei ha fatto su quello che è poi più propriamente storico che è questo, sono gli archivi della repressione del regime fascista e non solo verso i politici, anzi soprattutto non verso politici. Diciamo che anche il fascismo è stato un regime totalitario come gli altri, la differenza è soltanto nella quantità degli atti messi in essere, però diciamo i campi di concentramento, i gulag sovietici eccetera, qui avevamo i luoghi di confino, ma abbiamo avuto anche il campo di concentramento anche in Italia, a Bolzano abbiamo avuto un esempio molto grave perché lì le situazioni erano più o meno quelle dei campi di concentramento di sterminio nazisti perché da lì poi da Bolzano mal ridotti questi poveri catturati destinati alla morte venivano inviati in Germania, quindi tutto questo non è stato ancora ben approfondito e portato alla luce e soprattutto portato alla conoscenza di un vasto pubblico, perché c'è sempre il mito noi italiani, brava gente, non siamo come i sovietici, non siamo come i tedeschi, ma anche noi ci siamo resi colpevoli durante il secolo scorso di gravissimi crimini nei paesi del Nord Africa, nei paesi balcanici, poi ci siamo resi colpevoli nei confronti anche degli italiani stessi e degli ebrei che abbiamo perseguitato e quindi c'è stato questo mito noi italiani, brava gente, che lo storico del Bocca ha contribuito a sfatare, ma che purtroppo non è ancora ben capito dalla nostra collettività, da tutti gli italiani, ecco, che dobbiamo fare i conti che anche noi abbiamo un passato di crimini che abbiamo compiuto e da che cosa sono scaturiti questi crimini da questo regime che noi abbiamo vissuto. E infatti, con questo io direi che possiamo concludere questa nostra conversazione su questo libro edito da Castelvecchi di Alberto Vacca, Duce Truce, insulti, barzellette e caricature, l'opposizione popolare al fascismo nei rapporti segreti dei prefetti dal 1930 al 1945. Io ringrazio molto l'autore e speriamo insomma di avere ispirato un po' di interesse per questo testo. Grazie. Ringrazio voi dell'ospitalità. Grazie.